Non potevo ignorare quello che aveva detto. Nessuno era in casa, infatti, tranne noi due. Pensavo a Ballin, che era restato alla casa da gioco a lottare per la vita. Mentre questa piccola... Sapevo che tutti i suoi piani, tutti i suoi sogni di grandezza sarebbero andati in fumo per quello che lei gli stava facendo. Ma sapevo che non aveva la forza di mandarla via. Quindi dovevo farlo io. Dovevo liberarlo da questa donna, se volevo salvarlo. Gilda! Rivestiti svelta, bisogna andar via da qui. Andar via, Johnny. Noi due. No, Gilda. Tu sola. Mi odi sempre, vero Johnny? Non potrai mai immaginare fino a che punto. L'odio è un sentimento molto eccitante. Te ne sei mai accorto? Molto eccitante. Anch'io ti odio, Johnny. E ti odio a tal punto che forse un giorno ne morirò. Johnny. Amore, credo che morirò per questo. Tutti il nostro corso. Grazie.